tempo di colombe uova e pastiere la pasqua è forse la festa più cristiana che esista culinariamente parlando i riferimenti ai dolci della tradizione hanno la più forte connotazione religiosa di qualsiasi altro evento dalle uova simbolo di vita e rinascita alle colombe simbolo per eccellenza di pace sino ad arrivare alle pastiere perfezionate nei conventi napoletani come quello celebre delle suore del convento di san gregorio armeno i dolci pasquali sono ciò che in queste giornate di festa non possono mancare soprattutto sulle tavole napoletane dove regna una forte tradizione pasticcera alla pasticceria marano di giuliano in questi giorni è un tripudio di pastiere colombe e uova di tante varietà per accontentare tutti i gusti la pastiera è un dolce tipico pasquale la regina diciamo di questi giorni perché è fatta con ingredienti semplici di prima qualità e con grano con pasta frolla e la ricotta i nostri clienti preferiscono un po il grano passato però ovviamente si fa con grano intero o passato la colomba artigianale prevede invece un impasso ed una preparazione completamente diversa da tutte le altre che le permette di essere soffice e leggera la nostra colomba è artigianale e viene fatta con tre giorni di lievitazione proprio per rendere l'impasto molto morbido e soffice e digeribile al gusto sono tanti variati i gusti c'è quella classica tradizionale con i cubetti d'arancio e la glassatura alle mandorle e poi c'è quella con gocce di cioccolato quella farcita e frutti di bosco e quella con nutella o varianti e semifreddo la nostra colomba è fatta con ingredienti di prima qualità e soprattutto freschi inoltre non ci sono né conservanti né additivi né colorante proprio per cui questa lievitazione naturale permette proprio la lievitazione fresca di questi prodotti e digeribile all'impatto mi vengo sempre a prendere questa colomba ogni anno com'è è buona come tutti i prodotti la gioia dei più piccoli sono invece le uova al latte fondente o alle nocciole purché si tratti di cioccolato ci divertiamo tanto a fare queste uova di diverse tipologie con cioccolato al latte fondente cioccolato bianco alle nocciola mandorlate o con le smarties grazie sempre per averci scelto e buona pasqua a tutti